Vai Razor, facci sognare! Ehm, ok! Ma che cazzo è? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovissimo video su Happy Wheels! Ehm, in poche parole non avevo voglia di registrare nessun altro gioco E quindi come alternativa ho scelto quest'ultimo Ok, dette queste due fesserie direi che possiamo incominciare Quindi clicchiamo su Browse Levels E, Sort by Writing Perfetto! Ok, direi che possiamo incominciare con il primo livello Chiamato The Walking Dead Play now e vediamo... Aspettate il caricamento Ok, cos'è questo? Proviamolo subito Allora, c'è un tipo che sta strisciando per terra Con un cappello in faccia Sempre se è un cappello Ehm, niente Ok Mmm Che schifo Allora, cosa dobbiamo fare? Dovremmo... Minchia, si alza pure sulle mani Oh, fa breakdance Ok, si è spaccato un braccio facendo niente Sì, è un livello lezzo Andiamo su... Ehm... 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 Neon Rop Swing Play now Proviamolo subito Zio Cosa sono questi led? Ehm... Ok, mi sono buttato Ma fa niente Sono morto anche qui Faccio veramente schifo Vai Mmm... PewDiePie Heart Quiz PewDiePie Here is PewDiePie Ok, vai Un momento di sciocca... Aspetta Welcome... Welcome... Oh, vai indietro Welcome to the PewDiePie quiz First question What is PewDiePie's real name? Non lo so Vabbè, andiamo su Hardweed Kielberg Vai Non so niente su PewDiePie, quindi Ok Facciamo Restart Level E andiamo sul secondo nome Che è Felix Kielberg Oh, no Ma ostia Fermati Ok No Ok, vai 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 Ok, adesso sappiamo che PewDiePie Eh, che è sì Che PewDiePie si chiama Felix What is her girlfriend's name? Eh, che cavolo ne so Si chiama Marzia Bisognin Vai Oh, il primo colpo Where is PewDiePie from? Ah beh, aspetta Oh 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 Vai indietro Beh, questo Potrebbe essere giusto Vai 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 Perfetto Poi E che cavolo ne so Boh Ne avrà fatte 68 Ma chi sono Complete the text Ain't no party like Questa non la so Quindi spariamo Mamma mia Nel frattempo mi sono Ho perso la caviglia Poi mi sono piegato in due ma fa niente Io sono immortale Undertaker Ok what did PewDiePie wear In his Harlem Shake video Ehm Panties and a bra Non so cosa vorrebbe dire bra Ma credo che questa sia la risposta giusta Perfetto Mentre è uscito il mio fegato Parlando di fegati Ho appena accenato quindi veramente Ho il rutto facile E di conseguenza se sentirete dei rumori strani di sottofondo Sapete di cosa si tratta Ok Chiudiamo la parentesi su questo argomento E continuiamo con questo livello What does PewDiePie say at the start of the videos? Ah beh No Ma non c'è Vabbè Soup Brothers No Vabbè non ho più voglia di ricominciare il livello Che è abbastanza lungo Quindi ritorniamo nel menu E scegliamoci un altro level Ball fall Vai Play now Aspettiamo il solito caricamento Che questa volta è stato veloce Vittoria 32 secondi e 70 millesimi Ritorniamo di nuovo nel menu Allora Will you live? Il personaggio di oggi potrebbe essere il ciclista e il suo bimbo minga Che bell'alberello Ne voglio anche io uno Basta Have to be fast Ok Ciao Bella spada Ecco Cioè perfetto Perfetto Ricominciamolo Io sono Paxo Quindi ricomincio tutti i livelli E li concludo tutti Perché io sono Paxo Have to be fast Vai 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 Ma porco cane Ma porco cane Perché non becchi mio figlio Sempre io A farmi male Cioè mio figlio non vale niente Sta su un seggiolino del cavolo Scuote le braccia Basta 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 Allora Epic fall Caduta epica Ma mi scelgo il tipo col trattori Trattorino Beh non ce l'ha il trattorino Ma fa niente Sì vabbè Questo qua potrebbe far parte delle palle che c'erano Si è incastrato ovviamente E' molto snello devo dire Eccolo lì Eccolo lì Tuturur No No Devo rifarlo Assolutamente Cadi Cadi Buttati che è morbido Ok Basta dire scemenze Basta Basta Si che cos'è Oh ma mi vogliono veramente massacrare Oh Tanto Oddio Devo riuscire ad arrivare E a finirlo Vai Vabbè In ogni caso l'abbiamo finito E andiamo sempre più giù Adesso leggiamo un attimo I titoli Eeeh Heart donation Badabum Ma porco cane Oh ma mi massacrano di botte Eeeh Pappà Nearly impossible Adesso prendo la tipa col carrello della spesa Porco cane Santa madonna Ma mamma Muori Muori Prendiamo i centesimi Sono ricca Vado a comprare nutella No perché Perché Oggi sono rincoglionito Eeeh Donutmuff Eeeh HD donation Minchia Tutte donazioni Oh Vai Motociclista Paxo Con la tipa Paxa Restart Levels Ma muori Dai torniamo in su Eeeh Vai proviamo Il livello impossibile Al 99,999% Ah Mi sembra già impossibile Perché dobbiamo saltare fino lassù E appunto è una cosa Che non si può fare O di O Anzi si può No non si può Vai riprovo ancora una volta Dopodiché Bye bye Sì vabbè Allora A questo punto saltarci sopra Non è La cosa più difficile Mentre La cosa più difficile Eeeh Beh Diciamo Ecco Questo Basta Basta Vai dire che possiamo ancora fare Due o tre livelli Dopodiché Questo video Finirà qui No 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 10 10 ways to kill JB One Minchia un titolo un po' più lungo No eh If you try again Different things Might Happen Allora Mi sa che devo saltare Eeeh Schiacciare il bottone rosso Si Perfetto Vai Indietro In avanti Poi Schiaccia Oh 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 To own music Own Vabbè Fermati I work Accident Muori Muori Don't come Near me Vittoria Scusate Ma c'ho il naso Pieno Eeeh Pieno di cosa Vorreste saperlo Eh Eh Tobuscus quiz Arde Eeeh Vai Eeeh Ce la fai Ok Eeeh What are you doing In happy ways Eh sto giocando Sai com'è Andiamo giù qua Ecco Con due opportunità Io vado sempre A finire in quella Sbagliata Allora andiamo nella prima Next low Ok un bambino È fatto fuori Quindi non sarò più uno Muori bimba Muori Perché sei nata Perché Perché Vai qua Oh Ok Ok Io sono piegata In due Cheesy Eccola Leee Exit Madò Exit Exit Oddio Oggi sono rincoglionito Allo stato puro Ok ragazzi Direi che possiamo fare Un ultimo livello Dopodiché Termino qui Allora Cerchiamo di farne Uno Un po' Difficile Così Sarà molto Molto Figo Ehm Andiamo su Stop fake Glicis Play now Vai bomberissimo Che cavolo è Ok ragazzi Credo che Questo video È giunto Termine Quindi Come al solito Vi invito a mettere Un bel mi piace A commentare E ad iscrivervi Al mio canale E noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao a tutti ragazzi